Io faccio il liutaio dal 1988, quindi sono 21-22 anni che faccio il liutaio e negli ultimi anni mi sono dedicato in particolar modo ad approfondire quella che è stata la liuteria bresciana. A Brescia c'è stata un'importante scuola di liuteria a cavallo fra il 500 e il 700, dovuta più che altro al fatto che Brescia era dominio della Repubblica di Venezia e che la produzione musicale della Serenissima e di tutta la sua Repubblica era molto importante e quindi i musicisti avevano bisogno degli strumenti per esercitare la propria professione e Brescia era una delle città, forse in quel periodo lì, forse la città che più di altre produceva strumenti musicali. In particolare gli strumenti gravi della scuola bresciana, la viola, il veloncello e il contrabbasso, sono per lo più rimasti identici, nel senso le proporzioni e l'idea di quello strumento che c'era nel 1500 è ancora quella attuale molto moderna. Uno degli autori più importanti che ha lavorato a Brescia è Giovanni Paolo Maggini, allievo di Gasparo da Salò, lavora dal 1580 al 1630 e produce appunto molti strumenti, tra gli altri splendide viole e altrettanti splendidi violoncelli. Mi è capitato durante l'organizzazione di una mostra che ho curato insieme a un gruppo di esperti provenienti un po' da tutto il mondo, proprio sulla figura di Giovanni Paolo Maggini e della scuola bresciana, mi è capitato di incontrare un bellissimo esemplare di violoncello di Maggini Maggini, che era uno degli strumenti esposti in questa grossa mostra, uno strumento molto bello, non aveva la sua testa ma per il resto era tutto originale, con un bellissimo suono e quest'anno ho avuto la fortuna di incontrare, possiamo dire, un suo fratello, un suo gemello, sicuramente costruito negli stessi anni perché è pressoché identico, con in più la testa originale fatta dall'autore in quegli anni, uno strumento bellissimo che dicevo ho avuto l'occasione di incontrare quando un importante compratore stava cercando un violoncello di livello e insieme a un collega di Cremona gli abbiamo proposto di provare il violoncello di cui vi sto parlando. Siamo stati in teatro a Cremona per capire come funzionasse in una grande sala e sono rimasto impressionato dalla particolarità del suono, dalla bellezza del suono, un suono molto potente, pieno di armoniche, ricco e con una gran capacità di portare il suono. Dopo che ho sentito questo strumento ho avuto la fortuna di averlo in laboratorio per un periodo perché appunto c'era questo cliente interessato a provarlo, a vederlo e in quell'occasione ho fatto tutti i rilievi necessari per poter costruire una copia. Abbiamo preso tutte le misure, fatto le dimmi e delle bombature. Vorrei provare in questa occasione a copiare per quanto ne sono capace il più possibile questo violoncello per vedere quanto si riesce a riprodurre e del suo fascino estetico e quello dipenderà dalla mia capacità manuale, ma soprattutto a quanto si riesce a riprodurre delle sue caratteristiche di suono. Non dobbiamo dimenticare, perché spesso rischiamo di fare un gran pentolone, mischiare tutto, che gli autori che noi conosciamo di più, gli autori di strumenti ad arco che conosciamo di più, come Antonio Stradivari o Giuseppe Guarneri, detto del Gesù, vivono e lavorano fra la fine del 600 e la prima metà del 1700. Maggini lavorava esattamente 100 anni prima. In quei 100 anni la produzione musicale, ciò che scrivevano gli autori per il violino, per la viola, per il violoncello, la prassi esecutiva, il modo di suonare gli strumenti ad arco erano completamente diversi. Malgrado questa condizione, questo stato, il violoncello, la viola che Maggini costruisce a fine del 500, prima del 600, è ancora il violoncello che oggi noi consideriamo moderno, quello per il quale autori contemporanei scrivono, quello per il quale ha scritto Shostakovich, quello per il quale ha scritto Bartok per quanto riguarda la viola, è quello strumento lì che hanno concepito e hanno realizzato nel 1500. Spesso mi faccio questa domanda e non ho ancora trovato nessuno che mi abbia risposto diversamente, se esiste un altro attrezzo, un altro strumento che l'uomo utilizza nel suo lavoro, che sia lo stesso che è stato costruito 400 anni fa. Il badile, la zappa sono pressoché uguali a quelli che usavano 500 anni fa, ma non è quello. Mentre gli strumenti antichi che usano ancora oggi sono quelli là, che hanno costruito nel 1500 e che dopo 400 anni o in alcuni casi magari anche di più, stiamo ancora usando oggi quello stesso attrezzo di lavoro, è una cosa che trovo molto affascinante. Grazie. Grazie.